Abbiamo visto che i primi capitoli del libro dei racconti perduti verte sull'arrivo di Erio la Tolleressea. Il marinaio umano arriva in quest'isola dove si imbatte nella casetta del gioco perduto e qui sente raccontare i racconti riguardanti la prima era del mondo direttamente dagli Elfi. Non ha mai sentito parlare di un dio creatore, Eru, che vive fuori dal mondo e che ha creato il mondo. Nel mondo però esistono anche degli dei pagani, gli Ainur, di cui quelli che hanno deciso di entrare nel mondo e di abitarvi sono detti i Valar o Popolo Felice. E raccontare tutte queste cose è l'elfo Rumil, che per l'appunto racconta della creazione del mondo e della venuta dei Valar a Eriol. Eriol non ha mai sentito parlare di queste cose, non ha mai sentito parlare né degli Ainur né dei Valar, ma conosce gli dei pagani, per esempio conosce Voden, Odino, e Tunor, Thor, che gli Elfi identificano con Manwe, il signore dei Valar, e con Tulkas, il loro campione. E' interessante notare come qui nei racconti perduti Nienna, la Valar della tristezza, sia la lugubre fui, ma poi di contro non c'è una dea invece della felicità, così come c'è uno dei Valar che è un cacciatore, Orome, ma di contro non c'è un corrispettivo pastore o allevatore. Ci sono poi Mandos e Lorien, divinità della morte e del sogno, che suggeriscono un collegamento visionario con il mondo onirico. Altri Valar sono poi la personificazione degli elementi della natura o degli elementi atmosferici, per esempio il respiro di Manwe è il vento, mentre Melko, con la sua semplice presenza, produce enormi ghiacciai nel nord e anche gli iceberg. Il Valar della battaglia Makar, conosciuto anche come Ramondor, cioè colui che urla, e sua sorella Measse, sono dei Valar assolutamente anomali. La loro corte ospita una battaglia perenne, con i guerrieri che arrivano spinti da Measse. Sono le aule di Makar, che spinge i combattenti a rivivere, con il vino e le sue braccia, sguazzando nel tumulto, si arrossavano fino al gomito. Questo è chiaramente un calco del Valhalla Norreno, la sala nella quale giungono gli spiriti dei guerrieri morti, che sono portati lì dalle valchirie e messi a combattere sotto lo sguardo vigile di Odino, perché proprio loro serviranno all'esercito di Odino per la battaglia finale del Ragnarok. Tuttavia la presenza di Makar e Measse nel panteon pagano dei Valar, con la loro brutale aula di ferro, suggerisce una visione ambigua della guerra come male necessario. E prova di questo è il fatto che contro Melko non ci vadano Makar e Measse, ma ci vada Tulkas, che invece è un Valar, che è un campione sportivo, uno che ama i giochi, lo schiocco degli archi e il pugilato, e inoltre la lotta, la corsa, il salto e i canti, che si accompagnano all'alzarsi di una coppa ben colma. Measse e suo fratello Makar hanno un ruolo marginale all'interno del leggendario un tolkeniano, sono presenti solo qui in queste prime fasi embrionali e poi scompariranno senza riapparire mai più. Vengono poi nominati i Sulimi dei Venti, Ui, regina delle Oarizzi, le sirene, e Nieliki, una bambina il cui riso fa crescere i Narcisi e le cui lacrime sono bucaneve. La dimora dei Valar è Valinor, chiamata anche Asgard, posta ai piedi dell'altissimo e innevato pinnacolo del Taniketil, posto sul margine occidentale della Terra Piatta. Valinor è dunque Asgard, il paradiso dei vichinghi, il luogo dove gli spiriti dei guerrieri uccisi in battaglia sono radunati per combattere e banchettare. Possiamo vedere che Tolkien, nelle prime fasi dell'elaborazione della sua mitologia, aveva cominciato quindi a sviluppare la sua idea dei Valar proprio sul modello della mitologia norrena. Gli dei nordici, gli Aesir, sarebbero stati i Valar, nella mitologia scandinava, e Asgard, il loro al di là mitico, sarebbe stata dunque una trasposizione di Valinor, la terra abitata dai Valar. Dunque all'inizio i Valar sono tutti gli effetti assimilabili a un panteon pagano, come possiamo trovarlo nella mitologia norrena oppure anche nella mitologia classica dei Greci, anche se in realtà sono degli angeli che sono sottoposti al volere di Dio onnipotente. Poi Tolkien progressivamente abbandonò questa idea, cercò anche di smussare i calchi diretti dal panteon pagano e comunque non cancellò mai questa idea, perché anche nella sua evoluzione successiva, quando tutte le cose rimangono molto più sfumate, comunque i Valar rimangono come le intelligenze angeliche sottoposte al volere di Eru Ilúvatar, il Dio padre onnipotente che sta fuori dal mondo. I Valar dei racconti perduti dunque riflettono anche tutte le caratteristiche tipiche degli dèi dei panteon pagani e quindi possiedono in sé tutte quelle caratteristiche umane che sono tipici dei vari dèi che noi conosciamo come Zeus, Ares, Thor, Odino, che spesso litigano, si scontrano, non sono d'accordo su che cosa fare, addirittura qui non sono neanche in accordo con quello che dice Mangue e non fanno quello che lui suggerisce. Più che un monarca assoluto, Mangue è un primus inter pares, che suggerisce che cosa fare, ma poi vede che gli altri non sono d'accordo e si defila. Non solo, ma fraintende anche le intenzioni degli altri e addirittura prende decisioni sbagliate su come comportarsi, per esempio nei confronti di Melko o nei confronti di Elfi e Uomini. I Valar possono essere irascibili, contorti e violenti se provocati. Tendono a intervenire, ma allo stesso modo tendono anche a ritirarsi dal mondo, un mondo che sembra molto complicato. Si vedono dunque in questa elaborazione all'interno del libro dei racconti perduti le principali influenze sulla mitologia di Tolkien, o almeno i modelli che Tolkien seguì nell'elaborazione del suo legendarium, e cioè il mondo pagano con tutti i suoi dei e il cristianesimo. Per esempio, in questa fase di elaborazione della sua mitologia, vediamo che ancora c'è un al di là legato al cristianesimo, che in qualche modo cerca di conciliarsi con questa visione, e quindi non ci sono solo le terre beate dove possono giungere le anime meritevoli, ma c'è anche una terra del crepuscolo, che è paragonabile al purgatorio. Mentre altri, le altre anime non meritevoli, vengono portate via dallo stesso Melko, per essere portati nelle sue fortezze di Angband e Utumno, un vero e proprio inferno. Insomma, gli elementi ci sono ancora, e distinti tra di loro. Poi Tolkien abbandonerà questa visione, cercando di amalgamare il tutto, cercando di creare una mitologia più fluida e non riconoscibile, o meglio, non riconducibile alle fonti di partenza, una delle sue tradizionali metodologie di lavoro. Questo sarà rintracciabile anche nell'elaborazione dei suoi personaggi. All'interno di tutte le sue storie, i personaggi hanno una loro fonte abbastanza ben riconoscibile, ma poi hanno tutti un'evoluzione personale, che li porta a svilupparsi e a non coincidere mai con la fonte di ispirazione dalla quale Tolkien è partito. È quella che Schippi ha chiamato rielaborazione creativa delle fonti di partenza e che ci ha regalato la Terra di Mezzo e tutte le opere scritte da Tolkien, a cominciare dal Signore degli Anelli. Uno dei particolari fondamentali all'interno di questa creazione, soprattutto a proposito della venuta dei Valar, è che Melko si distingue non come un Satana biblico, un Satana della tradizione giulaico-cristiana, che è stato scacciato dai cieli e arrivato sulla Terra. No, Melko, che poi sarebbe diventato Melkor o Morgoth, come lo avrebbero chiamato gli Elfi, è uno dei Valar che precede gli altri Valar ed entra nel mondo prima di loro. Anzi, è un supplicante che promette di smussare e limitare gli eccessi causati dalla violenza e dalla sfrenatezza della sua musica, la famosa stonatura che è all'interno della musica degli Ainur e che ha contribuito in maniera fondamentale alla creazione del mondo, imprimendo a tutto il mondo già la sfumatura del male. Viene dunque raccontata anche la creazione delle lampade, le prime fonti di luce nel mondo, che sono create da Aule, una è d'oro e l'altra d'argento, con la luce che Mangue e Varda portano dal cielo. Aule, che è il Valar legato alla costruzione, il fabbro dei Valar, convince Melko a costruire due grandi torri che possano sostenere queste due lampade, Elkar a sud e Ringil a nord. Su queste torri devono essere messe le luci in modo tale da illuminare tutto il mondo. Tuttavia Melko ringanna Aule, perché nonostante gli prometta di costruire delle torri fatte di un materiale indistruttibile, in realtà costruisce queste due grandi torri per metterci sopra le lampade, in ghiaccio, e ovviamente con il grande calore emanato dalle luci delle lampade, questo ghiaccio si scioglie e le torri crollano, causando incredibili inondazioni in tutta la Terra. Poi, dopo la distruzione delle lampade, causate da questo inganno di Melko, i Valar costruiscono un'altra fonte di luce, questa volta nella terra di Valinor, cioè gli alberi, che in questa versione della storia, nel libro dei racconti perduti, nascono da un frammento della luce perduta di una delle due lampade, Elkar, un particolare che poi si sarebbe perso nelle successive elaborazioni del Legendarium. E qui vediamo anche una profonda differenza a livello di significati. Infatti, come dimostrato da Verlin Flieger nel magistrale saggio Schegge di luce, che parla proprio della luce all'interno del leggendario tolkieniano in particolare del Simmarillion, la luce delle lampade, una volta distrutta, non può venire ripristinata. E quindi la luce dei due alberi è proprio diversa quantitativamente e qualitativamente. Oltretutto, gli alberi non sono neanche creati dagli stessi Valar che hanno materialmente contribuito a creare le lampade. Perché mentre la luce delle lampade era stata dovuta a Manwe e soprattutto a Varda, invece nel caso degli alberi è direttamente frutto di Yavanna, il cui campo d'azione è la natura e la vegetazione, non l'aria e il fuoco, come nel caso di Manwe e Varda. In seguito Tolkien tornerà sulla questione del crollo delle due lampade invertendo i nomi delle due lampade a seconda della loro posizione. Perché se nelle prime versioni Elkar era a sud e Ringil era a nord, in seguito invece Tolkien decise che Elkar era a nord e Ringil a sud. E decise di cambiare anche gli effetti della distruzione portata dal crollo delle lampade. perché se finora avevamo visto che cadendo le lampade avevano portato a inondazioni e a una sommersione della terra, invece poi Tolkien elaborò l'idea che nei punti in cui le lampade erano crollate erano originati due mari interni e quindi il mare di Elkar a nord e il mare di Ringil a sud. Un'altra prova di quanto sia profonda ed elaborata la riflessione di Tolkien nella creazione della sua mitologia e del suo legendarium. E questo è forse il principale aspetto di interesse di un libro come i racconti perduti che permettono di risalire alle prime versioni embrionali della storia vedendo che Tolkien aveva elaborato tutte queste idee già da giovanissimo e che poi passò il resto della sua vita a ragionarci sopra e a cercare di armonizzare il tutto creando un qualcosa di unico, di più fluido, di originale e capace di essere preso di per sé in maniera del tutto coerente e credibile.